Abbiamo delle preoccupazioni che se non si interviene seriamente sul tema della mobilità ci sia una tendenza, una tentazione alla delocalizzazione di attività produttive di Genova, vorremmo di lì che questo tema è straordinariamente urgente perché questa tragedia non può compiersi in un'ulteriore tragedia che è la perdita di occupazione e di attività produttive. Questo richiede anche l'intervento con strumenti di emergenza perché c'è chi ha già perso il lavoro in ragione di questa tragedia, basta pensare alle tante piccole attività che c'erano dentro la zona rossa che non possono essere più espletate e quindi c'è un problema innanzitutto anche di ammortizzatori e di risposte che vanno date alle imprese, ai lavoratori dal punto di vista del sostegno al reddito e della prospettiva. Ma poi bisogna porsi oggi per allora il tema che le attività produttive di Genova non possono essere persi.